L'amore è soltanto amore, quando nasce tra un uomo e una donna, ma l'amore è anche strano, particolare, complicato. Quando l'amore dal niente crea un nuovo e imprevedibile triangolo, lei, lei e l'altra, allora è contro natura. Di On Naturals, il mondo di tre donne messo a nudo in un film completamente diverso, disumano e umano nello stesso tempo, inimmaginabile e affascinante, un mondo contro natura incredibilmente vero. Voi siete bella, così bella che io. Vivian! Sì, Margaret, chiamami così, io ti aiuterò a uscire dalla tua solitudine, io posso esserti amica. Non s'annoglie qui in campagna? Non più adesso che c'è lei, diventeremo amiche. Di On Naturals. Di On Naturals, dove l'inconsueto triangolo dell'amore, ai confini della realtà, travolge tre giovani donne per dar vita a sentimenti e passioni che si identificano in una sola parola, contro natura. Di On Naturals, lei, lei e l'altra. Una storia di un amore nuovo, mai più. vissuto, impensato, che vi farà pensare. Brava, Margaret, non ti farò pentire della tua decisione. D'ora in poi, avrai tutto quello che ti è mancato. Tornerai a vivere, capirai? Viete un mondo che vive segretamente in ognuno di noi. Di On Naturals. Grazie. 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 Grazie.